Oh my life Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo più impotenti, fragili o disperati. Malattie gravi, realtà carcerarie, sofferenze e perdita di persone care. Momenti in cui potrebbe aiutarci la presenza al nostro fianco di un'altra persona. Un altro essere umano, non una figura religiosa. Per questo l'UAR ha attivato il servizio di AMNC, Assistenza Morale Non Confessionale. Un gruppo di volontari formati all'ascolto che intervengono su richiesta del bisognoso, in situazioni di disagio o di stress. Un ascolto non giudicante, senza oneri monetari e senza secondi fini. Sono volontaria AMNC perché l'aiuto umano è insostituibile. E sono assistente AMNC perché mi piace aiutare gli altri e perché è un modo per aiutare me stessa. Sono volontaria AMNC perché ascoltare è importante. Tutte le informazioni le potete trovare sulle locandine, nelle strutture dove siamo presenti, oppure rivolgetevi al personale sanitario. AMNC, Assistenza Morale Non Confessionale. Perché l'ha scoperto è già una cura. Amnc, Assistenza Morale Non Confessionale. Che es brutta… Amnc, Assistenza Morale Non Confessionale Grazie a tutti.